Roma, giorni duri per il calcio italiano. Dopo il caso Tavecchio scoppia il caso Lega Serie a più che un caso, un vero giallo per un comunicato diffuso questo pomeriggio dalle agenzie di stampa che annunciava il cambio dell'ordine del giorno dell'assemblea prevista per lunedì non più diritti televisivi, ma elettiva per tutte le cariche vacanti, dall'ado al presidente. Il giallo è che nessuno ne sapeva niente o almeno non tutti sapevano e soprattutto non si capisce ma insolito sospettato è lotito chi abbia preso l'iniziativa senza consultare tutte le parti interessate. Un dirigente di una grande squadra cadeva dalle nuvole io non ne so nulla, nessuno ci ha avvertito e tanto meno siamo al corrente che tutti i nostri problemi siano stati risolti e che ci siano nomi pronti per essere eletti come adè presidente. Lunedì chiariremo anche questa cosa. Un altro colpo di mano, ma sappiamo bene chi c'è dietro. Eppure sembrava di essere vicini al miracolo le dimissioni di Tavecchio e la possibilità che il presidente del CONI potesse commissariare la FIG, pareva avesse svegliato i presidenti della Serie A e smosso la palude della Lega. Punto dopo mesi di riunioni, incontri, veti incrociati, lotito che imperversa tra i tavoli che devono decidere il nuovo AD e quello del nuovo presidente, bloccando di fatto tutto quello che a lui non sta bene, la notizia era che in meno di 24 ore fosse stato trovo l'accordo su tutto. E invece era tutto un bluff questo il testo che ha aperto un nuovo fronte tra i presidenti di serie all'assemblea della Lega seria prevista per lunedì prossimo e infatti diventata elettiva l'ordine del giorno della riunione, inizialmente incentrata sull'approvazione del bando per la vendita dei diritti TV, è stato integrato con l'elezione del presidente, della D e delle altre cariche previste dal nuovo statuto. Dopo pochi minuti dal lancio della notizia su tutte le agenzie di stampa, sono cominciati a squillare i telefoni di tutti i soggetti impegnati nelle trattative in Lega chi aveva deciso il cambio dell'ordine del giorno? Un'altra giornata di confusione nel mondo del calcio che si aggiunge al problema commissariamento il presidente del CONI lo aveva annunciato per poi scoprire che non si può fare. Una decisione affrettata, anche perché Malagò domenica sera aveva spiegato in TV da Fazio, che non c'erano i presupposti per rinviare le elezioni. Cosa era cambiato lunedì? Nulla, se non le dichiarazioni di Tavecchio, non proprio amichevoli, e la voglia di rispondere subito in maniera forte e decisa. Ma i presupposti giuridici erano difficili da trovare e nonostante un pomeriggio e una notte di studio, non sono stati trovati dai legali del CONI. A tutto questo è arrivata ancora più ingarbugliata la risposta del mondo della Lega di Serie A ancora una volta più divisa che mai. I commenti dei lettori